Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 3 giugno. Ariete, la luna sosta nel segno amico del leone, tenendo alto il tono dell'umore. Non avete da temere grazie alle vostre abilità ogni giorno più sottili. Sapete schivare le difficoltà con un'invidiabile destrezza e indirizzarvi sulla strada migliore. Toro, il quadrato della luna al vostro cielo vi rende soggetti ad alto rischio, da tenere a una certa distanza. Siete impulsivi e terribilmente irascibili. Fate sempre di testa vostra, rifiutando ogni possibile aiuto e finendo con il cacciarvi in un vicolo cieco.